Aumentano ancora i contagiati in provincia di Cremona, 94 in più oggi, secondo i dati della regione Lombardia, per un totale di 2.167. Ogni giorno l'incremento è di un centinaio. È un dato costante nelle ultime due settimane. Il numero dei nuovi ricoverati negli ospedali però cresce soltanto di 45, meno che nei giorni precedenti. E il dato dei decessi, ieri 169 in tutto, è ancora in crescita. Anche a Cremona e provincia intanto si levano voci di protesta contro le politiche della regione Lombardia che nell'era di Formigoni, con il consenso dei governi, hanno favorito pesantemente il privato a danno della sanità. La strategia della proprietezza delle cure, che consiste nell'inserire il paziente nella struttura adatta per non più del tempo necessario, ha determinato la riduzione dei posti letto dell'ospedale di Cremona, diminuiti da 1.200 a 800. Per la riduzione delle spese è stato chiuso l'ospedale Robbiani di Soresina, con un centinaio di posti letto, sostituito poi da una struttura privata. Quando sono state create le aziende ospedaliere, l'ospedale di Cremona raggiungeva per poco le dimensioni minime previste, ciò nonostante si è trovato a dover fronteggiare la concorrenza di ben tre case di cura private. Ha quindi chiuso l'ambulatorio Ex-Inam di Viale Trento Trieste, tuttora inutilizzato. Il consigliere regionale dei Cinque Stelle, Marco degli Angeli, fa notare le contraddizioni del modello Lombardo, che di eccellente ha innanzitutto il personale. Un modello che negli anni ha sempre più favorito la sanità privata a discapito di quella pubblica. Sono stati molti i tagli che hanno colpito la nostra sanità. Abbiamo avuto tagli nei pronto soccorsi, nelle terapie intensive, sono diminuiti molto i letti a disposizione, sono state diminuite anche le prestazioni nelle terapie subintensive. Insomma, i nostri ospedali dei nostri territori, che oggi si stanno dimostrando ad essere il primo argine contro questa emergenza forte, sono quelli che invece negli altri anni non sono mai stati considerati.